allora benvenute e benvenuti sul canale io sono Beppe sono insieme a Cinzia e con il nostro camper siamo arrivati a Gubbio e ci siamo adesso fermati qui vedete le mie spalle c'è l'area sosta Carlini si paga 10 euro 24 ore di sosta e il costo giornalieno quindi se superate le 24 ore pagate in automatico un'altra giornata per quanto riguarda la corrente il costo è di un euro ogni due ore le colonoline non sono molte non sono proprio per tutti i camper l'area sosta è tenuta direi molto bene è un buon punto per carico e scarico distante circa un chilometro e mezzo dal centro di Gubbio proprio di fianco all'area sosta ci sono dei parcheggi per il camper dove non spendete neanche un euro totalmente gratuiti a livello di distanza non cambia nulla l'area sosta si trova in via il bottagnone guardate che spettacolo mentre camminiamo per raggiungere Gubbio prima cosa che troviamo sono i resti di un teatro romano guarda questo parco gioca per i bambini allora nel parco che abbiamo appena attraversato c'è anche una stazione di ricarica per le bike e poi anche la ciclofficina allora lasciato il parco giriamo a destra il marco a sinistra ragazzi ma noi siamo a Gubbio la più bella città medievale ragazzi ma noi siamo a Gubbio ragazzi ma noi siamo a Gubbio ragazzi ma noi siamo a Gubbio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.